Seconda giornata di riprese per Benelli su Benelli, il docufilm ispirato e che racconta la vita del leggendario Tonino Benelli. Questa mattina siamo venuti agli Orti Giuli, dove il set e il cast si sono spostati per continuare le registrazioni delle scene di questo docufilm. Raccontiamo Pesaro, la vedremo molto bene, oggi siamo agli Orti Giuli, ad esempio, parco cittadino molto bello, rimasto abbastanza intatto e quindi simile a come era al tempo. Abbiamo oggi in scena tutti i fratelli Benelli con Tonino Piccolino, un bel momento. Pesaro sarà presente e abbastanza protagonista di questa storia, insieme in generale alle Marche, questa nostra regione, l'Italia all'inizio del Novecento, questa nascita dell'industria Benelli è importante, insomma entusiasmante anche per questa terra. La storia di Tonino Benelli è la storia comunque di una famiglia, è la storia di una città e quindi noi ne siamo molto orgogliosi, noi come pesaresi ma anche proprio come italiani, visto che ai tempi è stato un grande vincitore, ha vinto più volte, pur se la sua carriera in realtà è solo di otto anni. Sì, sì, ha vinto, ha vinto, ha vinto, era un grande campione a livello pesarese ovviamente tanto amato e conosciuto, ma a livello nazionale, comunque internazionale, ha portato la visibilità alla Benelli e parliamo di lui, delle sue imprese sportive, parliamo della sua vita privata, della sua vita familiare, quindi entriamo anche un pochino nell'intimo dell'uomo. Direi che le riprese stanno andando bene, ieri sono state concentrate al Museo Benelli e quindi c'erano delle riprese create con l'attore protagonista in particolare, Gimelli Alessandro, che è anche l'ideatore del film. Oggi giriamo invece qua agli Ortigiuli e praticamente le riprese saranno concentrate su tutti i fratelli Benelli che si sono trovati appunto a portare avanti questa azienda motociclistica creata poi dalla madre, rimasta vedova insomma in età prematura e quindi oggi è tutto un esterno. Massimo Fratelloni è uno dei fratelli Benelli e sono Francesco, che è il fratello che seguiva principalmente l'ambito della rete commerciale. Quindi per me è una bella soddisfazione essere qua dal momento che ho iniziato il mio percorso d'attore con una parodia di tre spot pubblicitari amatoriali, poi avevo la voglia di ritrovarmi su un vero sette e ho iniziato ad andare a caccia di registi e di produttori, ho conosciuto Aleandro Castellani, Pupiavati, Enrico Vanzina, Luca Miniero, con i quali ho lavorato in film e fiction. Oggi sono qua per questa nuova avventura, ben felice di vivere questa giornata. È davvero una gioia poter girare questo film documentario a Pesaro. Il motivo è che le marche sono per noi fondamentali. Spiego meglio, l'anno scorso insieme all'aiuto di Daniele Vimini, il vice sindaco e assessore alla cultura, abbiamo portato Oliver Stone. Attraverso il sindaco Matteo Ricci abbiamo potuto portare un uomo di quel calibro nelle marche. È iniziata un'operazione da parte di Genoma Films Marche, che ha sede qui a Pesaro, di grande attenzione al territorio. La notizia che desidero dare a tutti i marchigiani è che questo film, Benelli su Benelli, è stato scelto per rappresentare l'Italia all'interno delle celebrazioni che si faranno a dicembre a Los Angeles per la stella di Pavarotti. Questo significa che rappresenterà Pesaro a Los Angeles e nel mondo. E si vedrà il territorio marchigiano, si vedrà Pesaro, più in generale le marche, dove genereremo altre scene. Insomma, l'obiettivo è proprio quello di sviluppare il cineturismo. E davvero, fidatevi, è questo il modo migliore. Un ringraziamento particolare va alla Regione Marche, alla Film Commission Marche e al Comune, nella persona di Daniele Vibini e Matteo Ricci, che tutte queste persone sono state fondamentali per realizzare questo film e saranno fondamentali per la distribuzione di questo film in tutto il mondo e in tutti i festival. Desidero ringraziare, oltre all'amministrazione comunale e la Film Commission Marche, che ha aiutato questo film, anche la famiglia Selci, che ci è stata molto vicino, e anche la famiglia Scavolini. Grazie a tutti e a tutti quelli che desidereranno ancora starci vicino. Grazie. Grazie.